Buonasera a tutti i telespettatori, da Marco De Luca, benvenuti alla TG Nord. Il Nord è sull'orlo di un baratro economico che trascinerebbe tutto il nostro paese indietro, escludendolo dal contesto europeo che conta. Vogliamo questo? A dichiararlo Giorgio Squinzi, dal palco dell'Assemblea di Confindustria. Allora andiamo a sentire proprio uno stralcio dell'intervento del Presidente di Confindustria. Eccolo. Signor Presidente del Consiglio, autorità, cari colleghi, Abbiamo vissuto i dodici mesi trascorsi dalla mia prima Assemblea con ansia e preoccupazione, a tratti con angoscia per le sorti del nostro paese. Con il passare delle settimane si è quasi perso il senso di futuro, di speranza, materia prima vitale per tutti noi. L'Europa si è fermata. Ovunque la crisi e le ricette adottate per fronteggiarla hanno aggravato la recessione, alimentato populismi e diffuso soluzioni demagogiche. Anche la Germania, che si sentiva immune da tutti i mali, fiera della solidità del proprio Stato e della propria economia, appare meno certa del proprio futuro e dell'austerità imposta. Oggi la sensazione di aver intrapreso una strada troppo ripida induce anche i più duri sostenitori del rigore a correggere le proprie convinzioni. In Italia la forte stabilità istituzionale politica e la costante emorragia di posti di lavoro e di imprese che chiudono hanno segnato la cronaca di tutti i giorni.